Rischia più anni di carcere, il ragazzino che ha ucciso sua sorella. La vittima si chiamava Leila Fowler e aveva soltanto otto anni. È stata trovata morta in una pozza di sangue, con più di 20 coltellate e altre ferite. Il fratello al tempo aveva soltanto 12 anni. Si chiamava Esaia ed era l'unico che si trovava in casa con lei. Lui ha fatto di tutto per cercare la verità, ma per gli investigatori è lui il killer. Ci sono tantissime prove controverse e alla fine il ragazzo è stato incarcerato. Ma adesso la situazione per lui sta cambiando. È in peggio.